Perché dovrei tradirti? Abbiamo tutti dei segreti. Non siamo ancora arrivati al tuo. Il mondo si arma più in fretta di ogni nostra reazione. Dov'è 007? Mi serve un favore. Sei l'unico di cui mi fidi. Il mondo è andato avanti, comandante Bond. Sei un doppio zero. Da due anni. Quindi sta al tuo posto. Se ti metti in mezzo, ti pianto una pallottola nel ginocchio. Quello che ti funziona... Sapevo che saresti andati d'accordo. Nome? Bond. James Bond. Quindi non sei morto? Ciao, Q. Mi sei mancato. Lui è il bene più prezioso di questa nazione. Se sente di perdere il controllo? No, non perderò. Il controllo. James, hai rinunciato a tutto per lei. Quando il suo segreto verrà fuori, sarà la fine per te. Che cos'è? Tu non sai che cos'è. James Bond. Licenza di uccidere. Un passato di violenza. È come se parlassi al mio riflesso. Ma le tue capacità moriranno con te. Le mie sopravvivranno anche quando non ci sarò più. La storia non è indulgente con chi gioca a fare Dio. Ma le tue capacità è un po' di condividere. Grazie a tutti.